Allora, buonasera a tutti, siamo qua riuniti con Ilario, Francesco e Fabio per fare una cosa nuova, un'iniziativa nuova che riguarda anche l'associazione. Abbiamo organizzato questo volo in notturna per riprendere le luminarie di Catanzaro dal cavatore fino alla bella vista. Partirà il suo drone con questo drone qui. Pronti? Questo è un Cinevus. Io sono Ilario, ho il piacere e l'onore di fare qualche ripresa a queste belle luminarie perché lo meritano, quindi insieme all'assistenza di tutti questi appassionati cercheremo di fare qualche ripresa suggestiva da poter condividere e promuovere la bellezza di queste luminarie. Quindi speriamo che vada tutto bene e noi ce la metteremo tutti. Questa è la prima iniziativa che si fa nel comune di Catanzaro. Ringrazio il sindaco, ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio tutti che ci hanno supportato per questa iniziativa. Ringrazio il sindaco, ringrazio le forze dell'ordine, 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 ringrazio le forze dell'ordine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.